Ciao a tutti ragazzi, qui è Art che vi parla e sono qui oggi per parlare un pochino di quello che è stato l'elefante nella stanza per quanto riguarda questi ultimi giorni, specialmente dopo che hanno risolto quello che sarebbe il main easter egg di Tugger Toten. C'è stata la Cazzi in tutta la discussione per il finale della storia etere, se per caso volete ancora vedere la Cazzi nel sapere le mie impressioni e la mia analisi vi lascio il video che ho fatto in descrizione. Ma l'altra cosa veramente importante è che qualcuno già, proprio con un app era appena uscito, andando in giro dal cinema facendo un noclip dappertutto, aveva trovato questa zona appunto non solida, dove però era solida invece la parte centrale con l'acqua e si poteva oltrepassare nuotando tutta questa specie di caverna e arrivare in questo posto veramente molto molto strano con una barca e Marte gigantesco. Molti in questo momento pensavano potesse essere addirittura un easter egg secondario o comunque addirittura un finale alternativo per quanto riguarda la storia etere, quindi noi potendo con la Victis Crew scappare da questo posto e salvarci, al contrario di quello che ovviamente è invece il finale in cui rimaniamo incastati nell'oscurità e nell'etere oscuro. Invece questa cosa dovrebbe essere teoricamente quello che è il trofeo o obiettivo, trova il segreto. E questo dovrebbe essere anche un riferimento a Shangri-La, dato che quando entriamo in questa zona, a parte la musica della intro di Shangri-La, inoltre dovrebbe essere riferimento a quelle teorie secondo cui Shangri-La non si trovava sulla Terra, quindi sull'Himalaya, bensì su Marte, perché c'erano i pianeti che si vedevano in una maniera differente da quella che sarebbe la Terra, quindi tutti dicevano oddio siamo su Marte, ed era una cosa davvero molto strana, quindi hanno un pochino giocato su questo piccolo riferimento, avendo Marte gigantesco, che fa pensare anche che quella che sarebbe la silhouette della mappa con quella che dovrebbe essere appunto la luna che si cala sotto le montagne, in realtà è questo Marte gigantesco. E con questa barca che appunto si vedeva dal cinema, molti pensavano potesse essere appunto questa specie di finale alternativo, easter egg secondario o qualcosa del genere, invece serve semplicemente per tornare nella zona della mappa e continuare a giocare, perché qua c'è soltanto questo piccolo riferimento con Marte gigantesco, la musica, e riconoscere che ci fosse questa teoria per Shangri-La che fosse su Marte, che era una cosa non per forza stupida, però molto molto vaga e non aveva troppo senso, perché appunto Shangri-La comunque sappiamo che dovrebbe essere un luogo mistico, ma dovrebbe trovarsi comunque in parte sulla Terra, teoricamente appunto sulla catena montosa dell'Himalaya. Però come tutte le teorie di zombie molto strane c'erano tutte queste cose strane, e a 3 già ci ha giocato sopra come fanno molto spesso con tutti questi strike secondari, questi piccoli riferimenti, questo è davvero carino, anche se per adesso almeno non c'è il metodo ufficiale per arrivare da questa parte, questo ragazzo che vedete, il video di Relaxing Samurai che vi lascio in descrizione, è stato il primo che, lanciandosi a caso col trampolino e la Thunder Gun in mano, è arrivato a questo punto, ma lui stesso se ci fate caso nel video originale si mette praticamente a urlare, perché non capisce cosa sta succedendo e cosa sta trovando, però riesce ad ottenere il trofeo sia lui su tutti i suoi amici nella lobby, quindi sappiamo che è soltanto il segreto nascosto, che a inizio ci aspettavamo fosse qualcosa riferito a George Romero essendo un remake di Call of the Dead, invece è soltanto questa piccola cosa. Ho detto prima elefante nella stanza perché appunto moltissime persone avevano speculato su questa cosa dopo che il finale della storia di 3 non era la parte più soddisfacente di questa mappa, e molti sono rimasti comunque delusi o scontenti di come si è conclusa la storia, quindi moltissime persone vanno a cercare quello che dovrebbe essere un finale alternativo, addirittura magari un good ending per quanto riguarda almeno la Victis Crew, però purtroppo così non è soltanto un piccolo riferimento messo così nella mappa che ci sta, anche perché teoricamente non dico sia l'ultimissima mappa perché c'è sempre la possibilità di un DLC 5 Zombie Chronicles 2, però questo riferimento vecchissimo addirittura da Black Ops 1 di Shangri-La è davvero secondo me molto divertente, bisogna capire appunto come si arriva da questa parte, quali siano i prerequisiti, alcuni parlavano addirittura di dover fare tutti gli easter egg della storia etere, o anche quelli della storia caos, quale possa essere magari il meccanismo per fare in modo che il trampolino ci sparghi da quella parte, perché moltissimi ci sono arrivati sparando a caso con la Thundergun che ti lancia via completamente a caso, mentre questo ragazzo semplicemente ha preso il trampolino che si è girato in maniera strana ed è arrivato da questa parte. Poi appunto guardando dal cinema questa zona non è solida la parte intorno su cui dovremmo stare, ma soltanto il pozzo centrale di acqua da cui noi nuotiamo arriviamo da quest'altra parte, quindi è molto strano e proprio nel video lui atterra direttamente nell'acqua e non intorno, perché altrimenti caderebbe fuori dalla mappa. La 3R ha comunque detto che ci sono diverse cose ancora da scoprire su Tag der Toten, quindi non abbiamo ancora trovato tutto quanto, ma molto spesso quando la 3R ci dice questa cosa non indica per forza degli easter egg molto grossi o qualcosa che possa essere molto legato alla storia, ma può indicare soltanto qualche piccolo riferimento molto minore di questo, delle scritte nascoste, qualche cipher qua e là, su cose che magari già sappiamo, magari un'altra registrazione radio non trovata, quando infatti loro dicono qualcosa del genere, anche delle vecchie mappe hanno detto che non abbiamo trovato tutto e negli ultimi anni sono stati trovati gli easter egg molto vaghi e comunque insignificanti o dei piccoli cipher che ci spiegavano o comunque andavano a dare qualche indizio sul futuro di zombie, però se li scopriamo tipo 8 anni dopo non servono a granché. Ovviamente comunque Tag der Toten è uscita da pochissimi giorni, quindi è ancora presto per dire abbiamo trovato tutto quanto o quello che manca sono soltanto i strike secondari o molto molto piccoli, la mappa deve ancora uscire su Xbox e specialmente su PC dove con un po' di data mining si può fare praticamente qualunque cosa, quindi aspettiamo ovviamente ancora qualche giorno, se non sbaglio il 30 dovrebbe uscire sia l'operazione Dark Divide che sia la mappa per tutte le altre piattaforme, questa dovrebbe essere l'ultima operazione di Black Ops 4, io vedrò di completare anche questo e ultimo, spero, Mercato Nero, penso che farò un video riguardo per dire le mie opinioni dopo averli completati praticamente tutti quanti, che è stata veramente una sofferenza, e avremo finalmente l'ultima mappa zombie, tutti quanti potendo giocare con la Victis Crew e vedendo tutti la cazzo in finale. In questi giorni sto ancora recuperando tutte le informazioni sia sull'easter egg sulla mappa e tutto quanto per farmi un po' una cultura personale avendo visto veramente poche cose, alla fine a parte la cazzo in finale e qualche gameplay proprio il day one, ho mancato tutte le altre informazioni, quindi nei prossimi giorni aspettatevi comunque sicuramente altri video su Tag Der Toten, e penso che come ho detto anche ieri torneremo molto a discutere su quella che è stata la risposta della community a tutto quello che è successo in questa mappa, specialmente dal punto di vista della storia e della conclusione, però anche alcune meccaniche che abbiamo visto, il ritorno della Victis Crew, ci sono moltissime cose di cui discutere, poter parlare per settimane e settimane, tanto ovviamente con Modern Warfare non ci sarà zombie, quindi dell'altra è ci si parlerà ancora per molto molto tempo, e fino all'anno prossimo non penso che avremo troppe informazioni, solitamente annunciano qualcosa per quanto riguarda il Call of Duty successivo maggio-giugno massimo, probabilmente si parla solitamente di campagna e multigiocatore, zombie bisognerà aspettare probabilmente tipo luglio-agosto, come è stato per Black Ops 4, quindi probabilmente tipo un comic-con, qualcosa del genere, per avere informazioni, per quanto riguarda invece il gameplay, è tutto rivelato circa uno o due mesi prima del lancio del gioco. Per cui ditemi voi cosa ne pensate di questo piccolo riferimento a Shangri-La su Marte, se secondo voi ci stava come piccolo riferimento, non per forza un easter egg secondario, o addirittura un finale alternativo, come vi è sembrato vederlo, secondo voi quali potrebbero essere i passaggi ufficiali per arrivare da questa parte, o è semplicemente volare completamente a caso e attirare in questo posto. Spero come sempre ragazzi che vi dà oggi sia piaciuto, e noi ci vediamo al prossimo. Un abbraccio, ala. Un abbraccio,